salve ragazzi rieccoci post partita di napoli juventus purtroppo questa è la quinta volta consecutiva che la juventus ci perde a napoli questa partita purtroppo è stata davvero una cosa davvero sfortunata anche addirittura ha giocato bene la juventus ha sprecato un sacco di palle golle per come ho visto io in campo per carità quest'apoli non è come l'anno scorso che ha dominato il campionato per me minimo un pareggio ci poteva stare per come era la partita se tu non segni caro caro mio non porti a casa la partita il napoli sfrutta l'occasione segna ora testa la prossima partita che è contro l'atalanta ok io di questa partita avevo provisto golle entrambe e così è stato vlaovic davvero si è mangiato quattro palle golle ha preso addirittura un palo sullo scavetto poi altra occasione di vlaovic poi parata da meret poi l'ha tirata davvero fuori quando ha è andato pulito sul contrasto rugani ma è incredibile incredibile vlaovic purtroppo per me flop è stato mi spiace poi i cartellini vlaovic bremer e cambiaso la munizione della lista dei cartellini che sembrava un circo ogni fallo che fa un calciatore della juve ha munito va bene è una cosa davvero in maniera per me sono falli normali quello che ho visto io purtroppo vlaovic è diffidato salterà la partita contro l'atalanta giocherà milic al suo posto contro al posto di vlaovic va bene purtroppo è inutile piangerci addosso per me il campionato è già andato ora speriamo di salvare il salvabile per questa stagione oh ma è vero data ancora la colpa di allegri sì sì sentiremo ancora allegri out allegri out qui allegri out là sì sì come no incredibile chiesa ha giocato benissimo ha fatto un gran gol che ha pareggiato la partita una bella staffilata di destro da fuori aria è stato peccato guarda poi quell'ingenuità di nonge appena entrato fa un fallo da rigore su osyman che con noi sapete il var funziona benissimo l'aveva addirittura parato scesni il tiro di osyman e il rigore di osyman che anche anche osyman male pure è stato Kvaratschelia gran gol ha fatto dell'1-0 grazie alla deviazione di Cambiaso purtroppo si è persa solo grazie agli episodi purtroppo il calcio è anche questo eh si gioca male si vince si gioca bene si perde com'è sto gioco il calcio è anche strano Beppe vabbè ragazzi spero che il mio video vi è piaciuto lasciate un like commentate e iscrivetevi al canale ci vediamo molto presto per i miei prossimi video solo per la maglia sempre fino alla fine vamos juve alla prossima